Musica Prandina ha ultimato lo sgombero dell'ex caserma, all'interno non ci sono più migranti, Biton ci esulta, ora partiamo con il progetto per il nuovo parcheggio Scure sullo sociale, il Partito Democratico contro l'amministrazione comunale, in due anni sono stati tagliati 9 milioni di euro Situazione di grande incertezza ad Abano Terme, i deputati Naccarato e Camani presentano interrogazione ad Alfano per chiedere il suo intervento diretto Si fecero consegnare 250 euro da un pensionato dicendo che la vittima del raggiro gli aveva rotto lo specchietto, denunciati due giostrai Incendio doloso in via Baiardi a Padova, le auto di padre e figlio date alle fiamme, vicino le forze dell'ordine trovano zainetto con una tannica di benzina Caldo, temperature record, ancora per 24 ore, poi arrivano i temporali, un'anziana muore in giardino a causa di un colpo di calore Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Padova, siamo in diretta, abbiamo tante notizie, iniziamo subito con lo sgombero dell'ex Prandina Ultimato proprio nella giornata di oggi, non ci sono più migranti all'interno, Biton ci esulta Ormai è definitivo il fatto che verrà chiuso questo sito, come abbiamo detto ormai da più di un anno che questa zona e quest'area non doveva essere utilizzata per i profughi e i clandestini proprio in centro della città Alla fine è una, tra virgolette, battaglia che abbiamo vinto insieme ai cittadini, insieme ai commercianti che hanno voluto sostenerci Concluse le operazioni di sgombero dell'ex caserma Prandina, fino a poco tempo fa allestita come centro di ospitalità dei profughi ora trasferiti in altre strutture Una battaglia vinta dal sindaco leghista che ora darà vita ad un progetto in quell'area Adesso quest'area diventerà un grande parcheggio, noi abbiamo chiesto già al demanio di averne la proprietà Penso che a breve, già a settembre, ne avremo la disponibilità, visto che è un sito che diventa completamente libero Dobbiamo valutare poi le situazioni dei vari fabbricati, cioè quelli che potranno essere demoliti e quelli invece che la sovrintendenza vincolerà Dopo di questo prepareremo il progetto dove nascerà il più grande parcheggio di Padova Che permetterà di rendere meno caotica la zona di Piazzale Insurrezione Non meno di mille posti da auto, anche perché i cittadini conoscono i progetti dell'amministrazione che sono quelli di restituire la piazza Insurrezione, anche questa all'area pedonale e quindi abbiamo bisogno anche di quei 250 posti in più per poter liberare una piazza così importante per Padova e quindi allargare ancora più l'isola pedonale Da un lato il sindaco esulta, dall'altro però deve fare i conti con il Partito Democratico che fa le pulci al bilancio e dice in due anni tagliati 9 milioni di euro al sociale Minimo vitale, progetti per i detenuti, affidi familiari, contributi per le emergenze gravi In due anni l'amministrazione ha tagliato milioni di euro al comparto sociale Sono 9 milioni in meno fra il comparto sociale e il comparto scuola Ecco, attenzione, non stiamo parlando solo delle povertà estreme, dei casi limite Qui si va a incidere sulla vita della nostra vicina di casa, dell'anziano, del padre di famiglia che dopo una vita di lavoro per vari motivi non se la fa più e c'è un taglio indiscriminato sui contributi diretti quindi quei piccoli aiuti che si danno ai padovani magari per la bolletta, per la tassa sui rifiuti per farsi la spesa eccetera ma soprattutto sulle attività sociali generali la prevenzione alle tossicodipendenze la prevenzione verso quei minori che poi non devono andare in giri brutti e con particolare riferimento ai nostri quartieri popolari Ecco dunque qual è la proposta di Bettin per recuperare almeno parte di questi soldi Sappiamo che sono raddoppiati i proventi dalle multe degli autovelox Ecco, metà di questi proventi il Comune può decidere di spendere come e dove vuole Allora, basta sprechi, sono circa 3-4 milioni già esigibili vengano subito messi per chi ha meno, per i cittadini, per chi ha bisogno di un aiuto Basta opere inutili, basta capricci, diamo una mano a chi sta peggio specie nelle nostre periferie E in giornata siamo andati a chiedere ai padovani cosa non va in città Sentiamo Se lei dovesse dire al sindaco qualcosa che non va in città, cosa gli dire? Io sono molto contento di come sta lavorando il sindaco Bitonci e potrei assolutamente nulla non avrei da dire lì Un po' tutto, un po' tutto non va Parcheggi, zona traffico limitato In questi ultimi giorni che si è fatto questa nuova ordinanza Cioè da rivedere un po' tutte le cose Bisognerebbe prendere in mano un po' la situazione Guardi, io purtroppo sono stata già presa due volte sotto i portici e sui messapiedi, intendo anche, dalle biciclette che corrono anche se c'è un senso unico La cosa che potrei dire è un discorso che voleva fare il discorso dell'area pedonale che secondo me porterebbe dentro il salone poca gente Come mai c'è tutto questo accatonaggio questi extracomunitari che girano per la città Dovrebbe forse sistemare la situazione dei parcheggi perché capisco che va preservata anche la proprietà di chi vive qui però i mezzi pubblici non sono sufficientemente adeguati per permettere alle persone di spostarsi e quindi non c'è posto dove parcheggiare l'auto E giriamo questa domanda a tutti i nostri telespettatori con il nostro Tg Linea Aperta di questa settimana che vediamo anche con la grafica Padova cosa non funziona in città Dite la vostra con un sms oppure una mail potete dare consigli, suggerimenti e a dire appunto la vostra opinione E da Padova ci trasferiamo ad Abano Terme dove la situazione insomma è complicata, complicatissima I parlamentari Chiamani e Naccarato hanno chiesto al ministro Alfano di intervenire d'imperio per sbrogliare questa matassa Sentite Noi chiediamo al ministro degli interni di sciogliere immediatamente il consiglio comunale di Abano Lo facciamo citando l'articolo 141 del testo unico degli enti locali che prevede che in caso di reiterate e ripetute violazioni di legge possa il ministro con decreto chiedere appunto lo scioglimento del consiglio comunale Un'interrogazione parlamentare affirma Camani e Naccarato chiede l'intervento del ministro Serve un segnale forte sostengono i due deputati perché l'atteggiamento di ostruzionismo della maggioranza è chiaro Assistiamo da troppi anni e anche in questi stessi giorni ad una serie di violazioni di legge che hanno ormai reso evidente come il consiglio comunale di Abano Terme così come è composto e cioè con l'esito elettorale che ha visto la vittoria di Luca Claudio Il sindaco attualmente in carcere a due palazzi non può che essere sciolto In giornata la deputata del PD ha incontrato il commissario Aversa Le dimissioni della maggioranza non sono avvenute in contemporanea con quelle della minoranza passaggio necessario per lo scioglimento Ci si trova in una sorta di limbo con grande incertezza perché nemmeno un ulteriore consiglio permetterebbe di chiarire definitivamente la situazione L'assemblea quindi non verrà convocata fino a quando dal ministero non arriveranno delle indicazioni precise E quindi noi oggi rimaniamo appesi nell'attesa che il ministro interrogato dalla prefettura decida il da farsi sul nostro comune Ancora una volta gli amministratori di Abano anziché determinare il proprio futuro scelgono di lasciare la nostra città in preda ad una lenta agonia il cui esito ormai mi pare del tutto scontato ma che ci fa perdere ulteriormente giorni ci reca ulteriori danni d'immagine La cronaca dalla provincia con un incendio all'ex campo di volo di Piazzola provocato da dei rifiuti abbandonati all'interno di una struttura Piazzola sul Brenta Un incendio è scoppiato alle 3 di lunedì notte all'ex campo di volo in via Marostegana all'interno di una struttura di proprietà di un uomo di Grisignano a di vita ricovero attrezzi con all'interno della spazzatura I vigili del fuoco di Cittadella e Padova e i volontari di Santa Giustina hanno lavorato più di 3 ore per spegnere le fiamme Le cause sono al vaglio dei tecnici dei pompieri Il rogo, di natura accidentale sarebbe dovuto al caldo ai vapori di gas scaturiti dai rifiuti lasciati all'interno della struttura Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che nelle prossime ore valuteranno se e come procedere nei confronti del proprietario La truffa dello specchietto molti padovani purtroppo ne sono rimasti vittime due giostrai sono stati denunciati Ponte San Nicolò i carabinieri hanno denunciato due giostrai di 50 e 45 anni che il 4 luglio avevano truffato a Legnaro lungo via Romea un 82enne i due giostrai avevano avvicinato l'uomo che viaggiava con una panda lo avevano affiancato con la loro golf lo avevano intimato e si erano fatti consegnare 250 euro dicendo falsamente che lui gli aveva rotto lo specchietto retrovisore dell'auto l'anziano aveva pagato per paura di avere problemi ma poi aveva raccontato l'episodio i carabinieri hanno ricostruito la vicenda e fermato ora i due truffatori un atto intimidatorio un avvertimento due auto in fiamme nella notte in via Baiardi stanno investigando naturalmente le forze dell'ordine Padova incendio doloso nella notte in via Baiardi due automobili sono state date alle fiamme in pochi minuti sono andate in cenere il ruogo ha illuminato l'intera via tanto che immediatamente è partito l'allarme diretto alla polizia e ai vigili del fuoco i gnoti hanno appiccato le fiamme alle due vetture una Ford Fiesta e una Kia Carnival appartenenti a due serbi padre e figlio di 53 e 24 anni sul posto le forze dell'ordine hanno rinvenuto uno zainetto con all'interno una tanica di benzina sono stati sequestrati per permettere il proseguo delle indagini Paura questa mattina per un incidente che ha visto coinvolto un ragazzino di 11 anni Piombino Dese incidente stradale alle 9 e un quarto in via Mussa all'altezza della rotatoria di via Dante un 58enne del posto alla guida della sua auto è andato in collisione con una bici condotta da un bambino di 11 anni residente a Piombino che seguito dalla mamma stava percorrendo la stessa strada verso nord il piccolo è caduto a terra ed è rimasto ferito sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso del suo M118 il bimbo è stato portato d'urgenza in ospedale le sue condizioni dopo la preoccupazione iniziale sono andate via via migliorando le temperature di queste ore sono veramente insopportabili c'è stato anche un decesso un'anziana probabilmente colpita da un colpo di calore allora sentiamo quanto durerà ancora questa condizione soprattutto anche il consiglio degli esperti di un esperto per gli anziani un passante l'ha vista stesa sul selciato di casa ma la telefonata al 118 non è servita Elda Sartore, 78 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Chiesa Vecchia non è escluso che le condizioni fisiche della donna siano state fiaccate dal grande caldo di queste ore i servizi sociali del comune di Padova in collaborazione con l'US16 hanno attivato il piano caldo dedicato in particolare agli over 75 sono 10.000 agli anziani coinvolti i soggetti deboli devono fare molta attenzione ai colpi di calore perché possono anche causare la morte ha spiegato il professor Paolo Simioni presidente dell'ordine dei medici di Padova che aggiunge i sintomi premonitori sono mal di testa, vertigini, nausea e vomito debolezza e crampi muscolari polso debole e temperatura elevata queste temperature comunque dureranno ancora per 24 ore poi dovrebbe esserci una tregua stiamo raggiungendo i massimi valori in questi giorni infatti le temperature rilevate ricordo sempre all'ombra sono intorno ai 35 gradi poi come è percepito quindi quello che effettivamente ne sentiamo causa dell'umidità si mantiene alta siamo oltre i 40 gradi le cose stanno cambiando dovrebbe arrivare un'aria instabile il termine instabile dice tutto aria instabile quindi si chiama perturbato che troverà una quantità di calore molto alta calore vuol dire energia quindi sarà possibilità di temporali quindi un cambiamento anche all'insegna di qualche tema man intenso comunque domani ancora dovremmo avere condizioni simili qualche temporale interesserà soprattutto la parte alpina poi per dopo domani ci avremo purtroppo situazioni di instabilità quindi con precipitazioni che soprattutto saranno a calare temporesco adesso vi facciamo vedere delle immagini curiose di un intervento dei vigili del fuoco che è stato effettuato nella giornata di sabato pomeriggio a Limena in via Ponterotto i pompieri hanno salvato una civetta che era rimasta incastrata all'interno di una canna fumaria di una casa di recente costruzione i vigili del fuoco hanno provveduto con una telecamerina a vedere la posizione del volatile e poi l'hanno liberata in un'area verde vicina siamo in chiusura la programmazione gli italiani sono razzisti a questa domanda cercheranno di dare una risposta agli ospiti di Focus di questa sera trasmissione in onda su Rete Veneta a partire dalle 21.05 è tutto per questa edizione di TG Padova io vi ringrazio per la vostra attenzione per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata ci vediamo presto